Nessun dubbio, De Luca e la sua giunta hanno sempre lavorato nella massima trasparenza e per la riqualificazione urbanistica della città nel segno della legalità. Il day after della sentenza che ha assolto il governatore e gli altri 21 imputati del processo Crescent a Salerno perché il fatto non sussiste, è ancora carico di soddisfazione per la parte politica e amministrativa che fa riferimento all'ex sindaco e attuale governatore. La fine di un lungo calvario giudiziario e anche dell'incubo sospensione dalla carica di presidente e la giunta campana per effetto della Severino, qualora fosse scattata la condanna. Il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, è raggiante. Avevamo naturalmente non la fiducia ma la certezza che alla fine sarebbe prevalsa la verità e la verità è prevalsa puntualmente. La giunta presiduta da Enzo De Luca per il passato con i suoi assessori, con i suoi dirigenti e funzionali comunali ha svolto una funzione di riqualificazione urbana ad altissimo livello nella totale trasparenza e cristallinità delle procedure. Naturalmente è un successo importante e quindi con maggiore lene e maggiore determinazione continueremo a fare il nostro lavoro, a cominciare ad Enzo De Luca che da questo punto di vista è una macchina poderosa. Di tutt'altro avviso un altro sindaco, Luigi De Magistris di Napoli, che intervenuto a Radio Castelluccio ha detto di non aver gioito per questa sentenza perché gli avversari vanno sconfitti politicamente e non per via giudiziaria. Per me non cambia nulla, ha aggiunto la fascia tricolore partenopea, rimane una brutta pagina per Salerno. De Luca è un pessimo presidente della regione. De Magistris ha poi definito uno brobrio il crescent, mentre il signore che si costruisce la piccola verandella abusiva o il nigeriano che acquista una banana al supermercato viene fermato con forza muscolare e con la spada di ferro, l'ultimo a fondo del sindaco di Napoli.